A Fano il commosso ultimo saluto al piccolo Tommaso Bisceri. Denghe salgono 85 casi di contagio confermati a Fano. Caso affidamenti a Pesaro, perquisizioni domiciliari per Santini è esposto. Pesaro esce dall'Unione dei Comuni nella gestione della polizia locale. Sport WL al varco del debutto di Nardone. Buona serata a tutti voi telespettatori e telespettatrici di Rossini TV. Ben ritrovati ad un nuovo spazio informativo del nostro telegiornale Rossini News. Notiziario del Canale 80 che in questa edizione di venerdì 27 di settembre apriamo con alcune immagini che arrivano da Fano dove la città si è fermata questo pomeriggio nel commosso ultimo saluto a Tommaso Bisceri, 14enne morto martedì mattina fra le mura della sua scuola Olivetti in seguito ad una patologia cardiaca congenita dopo che da due anni e mezzo era in attesa di trapianto. Nella chiesa di San Cristoforo la funzione religiosa ufficiata dal vescovo Andrea Andreozzi alla presenza di tanti fanesi e tanti coetanei di Tommaso che hanno voluto portare una carezza al dolore inconsolabile della famiglia. Suspersa richiesta della stessa famiglia non è stato concesso agli operatori televisivi di girare immagini all'interno della chiesa. Rimaniamo a Fano dove sono saliti a 85 i casi certificati di contagio di febbre tropicale dengue a cui se ne aggiungono altri 60 sospetti. E questo è il quadro comunicato oggi in conferenza stampa dal dottor Augusto Oliverani direttore del Dipartimento Prevenzione e Malattie Infettive dell'Aste Provinciale. Dopo le tre disinfestazioni pubbliche dalla Zanzara Tigre effettuate in tutte le aree urbane di Fano oggi Comune, Aste e Istituto Zooprofilattico hanno avviato una campagna di comunicazione verso i cittadini perché eseguono trattamenti nelle aree private. Il Comune dal canto suo per il prossimo anno si impegnerà a trattamenti larvicidi già a partire dal mese di marzo. Ci spostiamo a Pesaro e lo facciamo per parlare dell'inchiesta della Procura Federale sugli affidamenti diretti da parte del Comune alle associazioni Opera Maestra e Stella Polare. Un'indagine che il rapportato Polizia e Guardia di Finanza è effettuare perquisizioni domiciliari nelle abitazioni di Stefano Esposto, presidente delle due associazioni no profit appena citate, e di Massimiliano Santini, anello di congiunzione fra il Comune e le suddette associazioni. Il decreto di perquisizione è stato firmato dalla stessa Procura per analizzare documenti e transazioni anche su PC e tablet e fare luce di trasparenza sulle dinamiche degli affidamenti del Comune. Il Consiglio Comunale di Pesaro ha approvato una delibera che modifica il ruolo dell'amministrazione all'interno dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, riacquistando così autonomia sulla gestione della Polizia Locale. Il Consiglio Comunale ha approvato all'unanimità la delibera che modifica la governance di funzioni e servizi del Comune di Pesaro all'interno dell'Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, un provvedimento che in particolare porterà a riorganizzare i servizi di Polizia Locale che torneranno a essere riassunti in capo al Comune di Pesaro. È una riorganizzazione che riguarda in particolare la Polizia Locale e i sistemi informatici dove avviene appunto il rientro delle funzioni al Comune di Pesaro di questi due settori, Polizia Locale e sistemi informatici. È un anche modo per rilanciare l'Unione, per rilanciare l'assetto politico e la governance politica dell'Unione che avrà come strumento in futuro di aggregazione lo strumento della Convenzione. Quindi le funzioni ritorneranno al Comune, solo la protezione civile rimarrà all'Unione dei Comuni, mentre il futuro strumento dell'Unione sarà appunto quello della Convenzione. Già in essere c'è la Convenzione con il SUAP, in cantiere quella dell'Ufficio Europa per il riperimento di fondi comunitari. Per quanto riguarda la Polizia Locale, la delibera di fatto recepisce la mozione del consigliere d'opposizione Michele Redelli sull'istituzione del vigile di quartiere. Un servizio che sarà agevolato dal recupero di 11 agenti di Polizia Locale in più al servizio del Comune pesarese nell'arco del 2025. Questa è un'azione politica molto importante perché nelle stesse linee programmatiche la figura del vigile e il corpo della Polizia Locale è un valore aggiunto, li ringrazio per tutto il lavoro che svolgono quotidianamente ed è un ruolo di presidio, di prossimità, è un ruolo centrale nell'ambito del controllo del territorio, ma anche centrale per tutta una serie di azioni che la Polizia Locale svolge. Con questa delibera noi andiamo anche a aumentare quella che è la nostra capacità funzionale perché ritornando la funzione al Comune di Pesaro noi abbiamo la possibilità di avere una capacità funzionale diversa rispetto a quella dell'Unione. E nel Consiglio Comunale di ieri sono state anche approvate linee programmatiche di Andrea Biancani che saranno la colonna portante del suo mandato da sindaco. Con 20 voti favorevoli e 11 contrari il Consiglio Comunale di Pesaro ha approvato le linee programmatiche di mandato del sindaco Andrea Biancani. Sette indirizzi strategici per sette sfide che rappresentano le azioni da realizzare nel corso della legislatura 2024-2029. Andranno a guidare quello che sarà il futuro delle scelte che noi faremo nei prossimi cinque anni e saranno scelte che vanno sicuramente nella direzione di cercare di non lasciare nessuno indietro quindi di continuare ad occuparci come abbiamo fatto nel corso di questi anni delle persone più fragili, delle persone meno fortunate, di riuscire a implementare quelli che sono i servizi legati alle politiche educative, quindi vuol dire stare vicino alle famiglie, di puntare sempre molto di più rispetto a quanto è stato fatto in passato sulle manutenzioni. Quando parlo di manutenzioni mi riferisco alla manutenzione delle scuole, degli esili, degli impianti sportivi, del verde, cercando di riqualificare quelli che sono gli spazi pubblici presenti in tutta la nostra città. Dall'altra parte abbiamo un grosso impegno che è quello di riuscire a mettere a terra tutti i tanti milioni con le risorse del PNR che siamo riusciti, come dire, a intercettare. Poi abbiamo posto il tema dei quartieri che noi riteniamo che siano importanti e nel mese di novembre dovremo andare alla votazione per rinnovare i consigli dei quartieri, dei luoghi importanti dove i consiglieri saranno delle vere e proprie sentinelle sul territorio che porteranno direttamente all'amministrazione comunale quelle che sono le varie esigenze. Dall'altra parte il tema dell'ambiente con le comunità energetiche, la voglia di rendere la città sempre più verde, quindi aumentare quelli che sono gli alberi presenti in città. Al tema del volontariato dove noi continuiamo a ritenere che il volontariato sia una grande risorsa della nostra comunità, volontariato che spesso si affianca a quelle che sono le politiche e le attività che porta avanti dell'amministrazione comunale e non per ultimo il fatto di voler continuare a puntare sulla cultura, cultura e turismo che abbiamo visto che quest'anno grazie all'anno capitale abbiamo avuto degli ottimi risultati ma queste sono tematiche che vanno finanziate ogni anno per cercare di far sì che il nostro territorio sia sempre più attrattivo. Dall'altra parte partirà il bando per riuscire a almeno fare il progetto per il nuovo Via di Trieste tramite un bando, un concorso di idee, stiamo portando avanti tutto il tema del porto per cercare di rendere il porto sempre più attraente anche stando dietro a quello che è il tema del dragaggio, della variante urbanistica che dovrebbe consentire di poter utilizzare la nuova Darsena anche per le barche per il riporto, c'è il tema delle infrastrutture, il tema del nuovo ospedale, quindi tutti i temi che sono inseriti in queste linee programmatiche che secondo me invece sono molto efficaci e danno un'idea di quello che sarà la peso del futuro. Le linee strettamente legate alla campagna elettorale di Biancani hanno portato a Tony Accesi in consiglio con l'opposizione che ha definito il documento come vuoto e mancante di concretezza. Un documento che sarebbe perfettamente applicabile ad una città delle stesse dimensioni di Pesaro in qualunque altra zona d'Italia perché è evidente che all'interno di questo documento non ci sia concretezza, non c'è una parola spesa nei confronti degli anziani, non c'è una parola spesa nei confronti di quelle che sono delle modifiche sui servizi educativi che sono assolutamente necessarie ed importanti. Dopodiché ho cercato anche di provare, così ho provato a sollecitare il sindaco perché delle proposte, delle idee che in campagna elettorale sono venute fuori anche dalla nostra parte politica potrebbero essere ben inserite all'interno di quello che è un contesto cittadino. Se solo ci fosse stato da parte della maggioranza il desiderio di provare a lavorare insieme. Un desiderio che noi non abbiamo trovato e che è evidente, rispecchia perfettamente quella che è l'idea della città di Pesaro che la giunta di Biancani ha voluto ricalcare anche rispetto alla precedente. Una città che si concentra sulla palla piuttosto che sulla ruota, piuttosto che sul palio ma che poi concretamente non costruisce un'identità per il futuro. E dal Consiglio Comunale passiamo al Consiglio Provinciale che si rinnova in quanto verrà eletto questa domenica 29 settembre. Vediamo con quali modalità. Il prossimo 29 settembre la provincia di Pesaro Urbino eleggerà il Consiglio Provinciale che resterà in carica per i prossimi due anni. Nell'occasione non si voterà il nuovo presidente con Giuseppe Paolini già rieletto a dicembre 2022 e che resterà in carica fino al 2025. L'elezione però è significativa per più ragioni. In primi si sono due liste in corso ed entrambe puntano a cancellare il declassamento subito dall'ente. E poi sarà un nuovo test sulla bilancia fra centrosinistra e centrodestra nel territorio. Paolini, esponente di centrosinistra, potrebbe anche trovarsi un consiglio di segno opposto che non potrà comunque sfiduciarlo. Saranno 651 gli elettori chiamati al voto e a scegliere i 12 componenti dell'assise, come previsto dalla legge di riforma delle province, saranno i sindaci e i consiglieri comunali del territorio provinciale. Il voto sarà ponderato, cioè proporzionale al numero di cittadini che il sindaco e il consigliere comunale rappresenta nel suo comune d'appartenenza. Da un lato c'è la lista di centrosinistra denominata la Casa dei Comuni. La compongono sindaci quali Simona Guidarelli di Pergola, Palmi Rucchielli di Vallefoglia, Omar Lavanna di Mercatino Conca e poi i vice sindaco di Gabiccio e Mercatello, Matteo Sanchioni e Gabriele Giovannini, l'assessora di Fossombrone Laura Giombini, mentre fra i consiglieri comunali c'è Anna Maria Mattioli di Pesaro, Alessandro Valtroni di Fratterosa, Sara Cucchierini di Fano, Alison Micheli di Petriano, Oriano Giovanelli di Urbino e Anteo Bonaccorsi di Mondolfo. La nuova provincia Punto Più è invece il nome della lista orientata al centrodestra che candida come sindaci Alberto Alessandri di Cagli, Maurizio Gambini di Urbino, Luca Serfilippi di Fano, Domenico Carbone di San Costanzo, Nicolo Pierini di Pian di Meleto, Enrico Rossi di Cartoceto e poi i vice sindaco di Frontino Lidia Lazzerini e di Acqualagna Alessandra Serafini, i consiglieri comunali Carla Biccari di Urbino, Daniele Malandrino di Pesaro, Fernanda Sacchi di Mercatello sul Metauro e Sabina Stortiero di Terre Roveresche. Un albero è crollato questa mattina a Pesaro in strada panoramica Ardizio colpendo un automobile e ferendo in maniera lieve una donna. I vigili del fuoco sono intervenuti per la rimozione della pianta chiudendo la strada con la circolazione che è stata interrotta per circa due ore. Un 25enne albanese residente ad Urbani è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Carabinieri che durante un posto di controllo nel centro cittadino hanno fermato un'auto con al bordo il giovane che si è subito dimostrato molto agitato. Insospettiti da questo comportamento i carabinieri lo hanno perquisito con operazioni poi allungatesi fino alla sua abitazione dove sono stati trovati 150 g di marijuana, 5 di cocaina e 1 di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle droghe e denaro contante per un totale di 2.000 euro. Fra gli spedienti per nascondere lo stupefacente anche l'utilizzo di barattoli di riso per cercare di coprirne l'odore. I carabinieri di Livorno hanno invece arrestato sei persone accusate di furto pluriaggravato di autoveicoli e ricettazione. Furti soprattutto di furgoni che erano avvenuti anche nella provincia pesarese, oltre che in quelle di Pisa e di Foggia. Gli arrestati, di età compresa fra 24 e 66 anni, quasi tutti originari del Foggiano, seguivano i furgoni durante l'orario di lavoro per poi riuscire a rubarli non appena il conducente si allontanava dal veicolo. Un'attività che vedeva i mezzi coinvolti poi in una rete criminale con frequenti trasferimenti dei veicoli rubati fino in Polonia. Da pochi giorni è stata attivata la medicina d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Urbino con cinque posti letto per un investimento complessivo 280.000 euro di lavori di adeguamento. Il reparto di medicina d'urgenza situato al piano terra dell'ospedale è stato reingegnerizzato nel 2019 e la sua attivazione con cinque posti letto di degenza consentirà di accogliere pazienti provenienti prevalentemente dal pronto soccorso con patologia valenza internistica, traumatica o chirurgica non suscettibile di trattamento specialistico d'urgenza. Una nuova organizzazione che da subito permetterà di abbattere i tempi di attesa per i pazienti necessitanti un ricovero. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni e questa volta parliamo di una segnalazione risolta grazie ad un nostro precedente servizio. A meno di quattro giorni dalla segnalazione a Rossini TV è stata risolta la situazione di degrado denunciata alla nostra emittente da alcuni telespettatori riguardanti il piazzale Agile Fava. Ai piedi delle scalinate del retro del nuovo auditorium Scavolini campeggiava infatti una situazione di abbandono di materiali di scarto da lavoro in prevalenza tubi accatastati sul terreno. Un abbandono non solo sgradevole dal punto di vista estetico ma che veniva segnalato anche come luogo di rifugio per topi. Il tutto a pochi passi da una delle poche panchine presenti sul piazzale. La segnalazione ha dunque sollecitato il pronto intervento di pulizia degli operatori di marchi e multiservizi in un angolo di piazzale in cui sarebbe anche contemplabile un intervento più radicale sull'incuria di muri imbrattati e sgretolati. Vi ricordiamo il numero Whatsapp dedicato alle segnalazioni a Rossini TV 370-366-7210 per denunciare simili situazioni di degrado e per tentare di porvi rimedio. E a Pesaro continua l'operazione di pulizia delle caditoie quartiere per quartiere per evitare allagamenti durante le forti precipitazioni. Il Comune comunica che nella settimana dal 30 settembre al 6 ottobre gli interventi di Marche Multiservizi si concentreranno nelle località di Case Bruciate e di Villa Betti con le vie che vedete mostrate in grafica. E sempre Marche Multiservizi comunica che sono in programma lavori per consentire l'ammodernamento della rete idrica delle Comune di Pesaro in località Pozzo Alto, un intervento che richiederà la sospensione dell'erogazione di acqua potabile o calli di portata nella giornata di lunedì 30 settembre tra le 8 e le 14 su strada Lancisi, via Montemaggio, via Boccioni e via Castello. Interventi analoghi verranno effettuati anche a Cantiano con sospensione dell'erogazione dell'acqua lunedì tra le 8 e 30 e le 17 in piazza Luceoli, via Del Mercato, via Giusti, via 4 Novembre, via Dei Molini, via Fiorucci, via Allegrini e via Della Torre. Ed ora le belle immagini che vi stiamo per mostrare si riferiscono alla suggestiva escursione da Pianello a Fondarca che ha chiuso il progetto I suoni dell'Appennino, una rassegna organizzata dal CAI di Pesaro assieme al Conservatorio Rossini in un felice connubio fra grande musica e grandi scorci del nostro Appennino da godere attraverso trekking. Nel magico scenario di Fondarca una partecipazione straordinaria di 200 persone che hanno ascoltato la Rossini Sellos Orchestra, diretta dai maestri Claudio Casadei e Francesco Fontana. A Pesaro il quartiere di Muraglia si arricchisce di uno spazio di aggregazione sportiva e rispondendo infatti alle richieste dei residenti è stato inaugurato un nuovo canestro in piazza Alfieri che crea in questa zona un playground dedicato al basket. Rimanendo in tema sportivo ma di sport professionistico, ieri sera a seconda sconfitta consecutiva per la Vispesaro che è caduta 3-2 a Campobasso pagando un turnover eccessivo, grossolane amnesie difensive e anche la complicità di qualche decisione arbitrale. Campobasso che va sul 2-0 grazie alla doppietta dell'ex Di Nardo, Bove fa rientrare la Visso in partita col 2-1 di testa al quarantesimo ma allo scadere di frazione il Campobasso trova il 3-1 in contropiede con Di Stefano. Nella ripresa alla Vispesaro ci prova ma trova solo il 3-2 di Peixoto all'ottantottesimo. Prossima partita lunedì alle 20.45 con Vispesaro Perugia. Dal calcio al rugby arriva un sabato intenso per la Piorini-Pesaro Rugby che domani alle 10.30 avrà al Codma di Fano la presentazione ufficiale della stagione 2024-2025 e poi al Tecnovull Rugby Park di Muraglia giocherà alle 15.30 l'ultima amichevole per il campionato e si tratta di un match internazionale contro la squadra polacca del Pogono e Sidlese, terza classificata lo scorso anno nel massimo campionato polacco. E arriviamo alla VL perché arriva la prima gara stagionale del campionato di Serie A2. Si comincia dalla trasferta di Nardò che viene analizzata ai nostri microfoni da coach Pino Sacripanti, intervistato da Elisabetta Ferri. Domenica l'esordio su un campo inedito per Pesaro, non ha mai giocato contro Nardò e neanche al Palasport di Lecce, quindi così anche una curiosità andare a scoprire nuovi posti, nuovi pubblici che sicuramente aspetteranno Pesaro perché il blasone sulle spalle ce l'abbiamo ma non deve mancare l'umiltà di affrontare comunque una squadra che ha una storia breve rispetto alla nostra. Andiamo a giocare in un nuovo palazzo, una formazione ben allenata, una squadra che abbiamo già visto, non l'abbiamo mai incontrato ma l'abbiamo già visto in un torneo. Penso che sarà veramente un campo difficile dove dobbiamo avere la consapevolezza di riuscire a difendere per 40 minuti e cercare di mantenere il controllo del ritmo per tutta la gara. faremo qualche variazione dopo l'infortunio di Petrovic per sopperire a questa mancanza e vediamo, siamo i primi a essere da un lato eccitati e dall'altro anche curiosi di poter affrontare questa sfida. Non abbiamo ancora i tempi di preciso di recupero di Danilo, purtroppo si è fatto tutto da solo correndo, appoggiando solamente il piede, quindi è una cosa così. Ecco, io diciamo che quando l'ho visto qualcuno minimizzava, io in maniera molto pessimista avevo già visto un po' che le cose non andavano troppo bene. Per noi è una grande perdita, mi dispiace per il ragazzo che mostra dell'impegno e della volontà pazzesca, all'interno della squadra stava ottenendo un ruolo importante, però adesso non ce l'abbiamo, cerchiamo di guardare in mercato tutto quello che c'è, anche se c'è pochissimo se non quasi niente, perché siamo all'inizio, quindi qualsiasi squadra che vuole fare qualche tipo di movimento, piuttosto che qualche giocatore scontento, ancora adesso non c'è. Noi stiamo lì, proviamo a sondare qualsiasi cosa e intanto vediamo come va, senza crearci troppi alibi, ma cercando di prendere delle risorse da quello che noi abbiamo già. E concludiamo il nostro telegiornale con un ultimo servizio di sport, ma in questo caso parliamo di motori con una nostra intervista al pilota Diego Di Fabio, reduce da una vittoria di prestigio in Francia al volante della Lotus. Dopo il podio con la Ferrari, la vittoria con la Lamborghini, questa volta l'automobilista pesarese Diego Di Fabio si è messo al volante della Lotus ed è arrivata un bel successo nel weekend di gare in Francia. Diego ti si dà un volante, in qualche modo riesci a tirarne fuori almeno un podio. Noi la pezza la mettiamo sempre, il gas glielo diamo, quindi un podio lo strappiamo sempre. Sono contento, tre gare in un weekend, tre podi, due secondi posti e una vittoria la domenica nella gara Endurance. Sono contentissimo, un weekend ottimo. Un weekend in una pista francese che tra l'altro era completamente strana anche ai tuoi percorsi precedenti. Sì, completamente nuova, non l'avevo neanche mai sentita, mai provata il simulatore, che di solito le provo il simulatore, non avendo tempo da altre gare, altri impegni lavorativi, quindi sono arrivato là, l'ho scoperta il venerdì e siamo andati subito molto bene. Ecco, c'è stato questo rimbalzo tra categorie diverse, macchine diverse, come procede la tua stagione e anche lo sguardo sul 2025? No, sta procedendo assolutamente molto molto bene, sto rimbalzando dalle varie macchine, da l'una all'altra, tra la Ferrari, tra la Lamborghini, la Lotus, che è completamente diversa, non c'entra niente dalla Lamborghini e dalla Ferrari, però ci stiamo trovando bene. Alla fine il podio esce sempre, quindi non posso dire nient'altro. Le prossime competizioni ti porteranno a Monza e Barcellona e c'è anche una sfida del tutto inedita. Sì, assolutamente sì. Prossimo weekend, ultima gara del GT Sprint con la Ferrari, con la 488 a Monza e il weekend dopo, quindi doppio weekend, back to back, con la Lamborghini per la prima volta nel supertrofeo europeo, infatti a breve arriverà sui miei social l'annuncio che farò l'ultima gara del monomarca Lamborghini europeo a Barcellona, che non ci sono mai stato, infatti scopriremo anche lì nuova pista e sarà interessante con la Lamborghini anche lì a Barcellona. Si conclude qui questa nostra edizione delle telegiornale Rossini News, ma continuano gli appuntamenti su Rossini TV, anche subito il nostro TG, perché già alle 20 una nuova edizione del nostro magazine La natura e della cultura, che in questo caso vi porterà alla scoperta della prossima capitale al quadrato del progetto di Pesaro 2024. In realtà si tratta di due capitali al quadrato, perché nella prossima settimana il progetto si sdoppierà tra Frontino e Monte Porzio. Il magazine va in onda alle 20, così come alle 8 e alle 13 del lunedì, del mercoledì e del venerdì, tre puntate che potrete rivedere in forma accorpata in replica domani alle 12 e alle 19 e domenica alle 15 e alle 21. E questa sera invece alle 21 il nostro speciale dedicato al Laboratorio per l'Impresa Sostenibile e dalla gestione delle risorse all'analisi dei dati. Selezioni a cura di confartigianato tra ottobre e dicembre. Scopriremo tutto questa sera alle 21. E poi parleremo di cultura, in particolare di teatro, perché alle 21 e 20 c'è questa nostra marcia d'avvicinamento verso il Festival GAD, verso il 77 Festival Nazionale d'Arte Drammatica che comincerà il 14 ottobre, questa sera alle 21 e 20, la prima puntata di questo avvicinamento. Avvicinamento che avviene anche andando a rivedere alcuni degli spettacoli delle passate edizioni del GAD alle 21 e 40, trasmetteremo infatti nel nome del padre uno spettacolo portato in scena dalla compagnia La Corte dei Folli. E arriviamo alla prossima domenica, domenica 29 settembre, pomeriggio in cui esordisce la vittoria a Liberta Spesaro, la VL, nel campionato di Serie 2 contro Nardò e subito dopo la fine del match trasmetteremo la partita nuovamente noi di Rossini TV in differita a partire dalle 21 e 30, perché quest'anno Rossini TV è la TV ufficiale del campionato della VL di Serie a 2. Un sistema di trasmissione delle partite in differita che avverrà per tutta la stagione, non solo domenica alle 21 e 30, potrete rivedere anche Nardò, Carpegna, Prosciutto, Basket Pesaro lunedì alle ore 21. E infine vi ricordo l'appuntamento con la rassegna stampa dei quotidiani locali, Buongiorno Rossini, come sempre in diretta dal lunedì al sabato alle 7 e 20, domani sabato 28 settembre, a tenervi compagnia con la lettura dei quotidiani locali ci sarà il nostro Antonio Astuti. Si chiude invece qui questa edizione del telegiornale Rossini News, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata e un buon weekend in compagnia dei nostri programmi.